A faccia rocaz direbbe qualcuno, a sua qua, a faccia rocaz, mamma mia ragazzi, mamma mia, mamma mia, l'Inter gli ha fatto un culo, un culo, un culo, non guardate le mani, guardate le braccia, un culo grosso così, veramente raga, veramente, e meno male che non segnavano da 440, 400 minuti, 420 minuti, quanti cazzo erano? Erano 420 minuti, 420 minuti dove l'Inter non faceva gol, se ne è dette di tutti i colori, e oggi quanto pesava ragazzi la partita, ogni singolo pallone prima del gol, quanto pesava? Allora andiamo per gradi, perché ora parliamo di tutto, di tutto, c'è davvero di tutto, allora, iscrivetevi al canale, subito, immediatamente, se non l'avete fatto, mi raccomando, perché molti di quelli che guardano i miei video non sono iscritti al canale, se vi iscrivete al canale, almeno variano le notifiche, sono contento e vedo anche l'avanzare, lasciate un mi piace, Allora, fatemi sapere qua sotto con un commento, secondo voi, chi vince questo scudetto tutto strano dove si sorpassano continuamente? Inter, Milan e Napoli, Inter, Milan e Napoli, Inter, Milan e Napoli, pazzesco, pazzesco, vi dicevo, parliamo della partita, quanto pesava ogni, ogni pallone toccato dall'Inter prima del 22esimo, prima del gol dell'1-0, Che l'Inter crea da morire, ragazzi, nei primi 20 minuti, anche se l'Inter non trova gol, ne potrà fare 3, 4, 5, Lautaro Martinez, prende una traversa, su un passaggio di Barella, con la traversa, e sta ancora tremando, quella traversa fa biti 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 biti, gli fanno Giacomo Giacomo, La traversa fa Giacomo Giacomo alla porta, mamma mia, pazzesco, pazzesco, tra l'altro una salernitana che qualcuno dirà, vabbè, ma è la salernitana, sì, ma fate attenzione, perché la salernitana è una squadra organizzata, prima di tutto, E lo ha dimostrato a più riprese, all'inizio del girone di ritorno, cioè dopo il mercato, quando la salernitana non perdeva più, pareggiava e basta, e ha bloccato anche il Milan, quindi prima di dire, vabbè, ma è la salernitana, sì, sì, però la salernitana ha bloccato anche il Milan, e l'Inter, no, l'Inter gli ha fatto 5 bombe, un Inter che aveva quel problema lì, regà, 90% del calcio, i problemi sono mentali, funziona sempre così, Da che io abbia ricordi, è sempre stato così, cioè, tu hai un problema mentale, fai lo switch mentale, e il problema non c'è più, sostanzialmente succede questo, e questo è successo anche oggi, perché l'Inter delle ultime settimane era diventata irriconoscibile proprio perché non riusciva a trovare il gol, sarebbe bastato un gol per azzittire i giornalisti, per azzittire i calcoli che si sono fatti, per appunto andare in scioltezza, e il gol c'è stato. Il gol c'è stato, l'1-0 c'è stato, l'1-0 che arriva dopo esattamente 420 minuti di stop, non segnavano dal gol di Edinger, come pare contro il Napoli, sto andando un po' a memoria, comunque era un big match, fatto sta che Barella dà un pallone bellissimo, bellissimo d'esterno, con una qualità clamorosa, mette in porta Lautaro che è bravissimo ad inserirsi, e fa 1-0. Passano 18 minuti, stessa storia, Barella ripesca di nuovo Lautaro Martinez, con Lautaro che fa doppietta. Io mi permetto, continuo a dire, che a mio modo di vedere Barella è il miglior centrocampista del nostro campionato. Che vi piace o che non vi piaccia. Oggi ho fatto un video, ve lo lascio nelle schede, ve lo lascio nelle schede, e nel video dicevo, facevo riferimento completamente al fatto che in questo momento, ho parlato veramente del migliore di ogni squadra e dell'Inter, ve lo spoilerò, ho detto Barella. E molti, ho spiegato anche perché, molti si sono lamentati, dicendo ma Barella sta facendo cagare da tre mesi. Barella, ragazzi, aveva tirato un pochino la fiacca. Perché? Ma perché è normale. Ma perché è normale? Ma perché Barella fa prestazioni di Cristo da due anni. Le ha fatte all'Europeo, le ha fatte con l'Inter l'anno scorso, le fa con l'Inter quest'anno, ed è costretto puntualmente a scendere in campo perché non c'è nessuno che sia minimamente paragonabile a questo Barella. E quindi è normale che dopo un po' è rfiato gli manchi, gli pesino le gambe, credo che sia piuttosto normale, credo che sia nella norma. Fatto sta che oggi Barella più e più volte ha dimostrato perché è un signor giocatore e a mio modo di vedere è il miglior giocatore che in questo momento l'Inter abbia in squadra. Al di là poi di Lautaro, che oggi fa il mattatore proprio completo, ne mette dentro tre, vabbè. Poi arriviamo al 3-0. Ancora Lautaro, che ricordiamo aveva preso la traversa prima di tutto sullo 0-0, su un pallone di Barella. Il 3-0 di Lautaro Martinez, innanzitutto, è un 3-0 che parte da dove? Da Barella, che fa un movimento straordinario. Manda Dzeko verso la porta, Dzeko mette questo pallone dentro e Lautaro fa il gol del 3-0. Ora, io ora ci arriviamo, però voglio dire una cosa, perché poi Dzeko farà due gol e un assist, quindi anche Dzeko fa una partita clamorosa e devo dire che funzionano davanti Dzeko e Lautaro. Però voglio far notare una cosa alla Salernitana. Io voglio capire perché, e questo è un dubbio che ho, cioè tifosi della Salernitana, se avete la risposta pronta io me la prendo volentieri, me la metto in tasca e le prossime volte nei miei video so quello che sto dicendo. Ma perché la Salernitana ha giocato 90 minuti con la difesa a centrocampo? Cioè, ora, io dico, io dico, è vero che da quando la Salernitana prova a fare un gioco offensivo, prova a fare un gioco propositivo, è cambiata la storia. Questo è, cioè questo dico in dati, ok? Ha fatto dei pareggi, sei un po' risvegliata, ci ha provato e tutto molto bello. Però dall'altra parte, il mio punto di vista mi porta a dirvi che, dopo che hai visto che ti stavano bucando come una grattugia, no? Ti stavano bucando come uno scolapasta. Non era il caso di rivedere il proprio schema, il proprio assetto tattico e cercare di abbassare la difesa? Perché i gol, allora, i gol del primo tempo, diciamo che, insomma, possono capitare. I gol che arrivano nel secondo tempo sono gol, a mio modo di vedere, che, vabbè, l'Inter è bravissima, ad esempio, ragazzi, il gol del 3-0, no, sì, del 3-0, quello del 3-0 fanno, l'Inter fa tipo veramente 15 passaggi consecutivi prima di imbeccare il pallone giusto o lungo. E va bene, e va bene. Però al di là di questo, cioè, ma santo cielo, ma santo cielo, ma io mi domando e dico, no, ma puoi prendere dei gol? Il 4-0, il 4-0 è un pallone che arriva a sinistra, Cosenza mette dentro e già cosegna. Ma poi già il 3-0 è quella figura, il 3-0 è proprio 3-0 e 5-0 sono la figura del fatto che la difesa alta contro l'Inter non puoi farla. O comunque, a un certo punto, inizi a prendere delle contromisure. Cioè, t'hanno bucato veramente come non mai. Un pallone in profondità e la tua difesa andava in difficoltà. Non è una cosa, a mio modo di vedere, comprensibile. Non è una cosa, a mio modo di vedere, accettabile. Il 5-0. Ah, tra l'altro, aspetta, parliamo un attimo del 4-0, perché Dunfries, sì, Dunfries, quello è il 5, e Cosenza dà il pallone bellissimo al centro per Giacomo che impatta e fa 4-0. E, se non sbaglio, o è il primo o è uno dei primi palloni toccati da Cosenza in partita. Attenzione, perché io ve l'ho detto chiaramente quest'estate che Cosenza... Ora, si è parlato tanto di Vlaovic, perché Vlaovic, ragazzi, ci mancherebbe altro. Cioè, una squadra, la Juve ha preso un top player, un'altra squadra dell'Inter ha preso un gran giocatore, secondo me. Però, attenzione, perché Cosenza, io ve l'ho detto da quest'inverno, da quando c'è stato il colpo, secondo me può veramente spostare gli equilibri in quest'Inter. Anche perché, non dimentichiamoci che l'Inter sulla sinistra, c'è Ivan Perisic, che a giugno andrà in scadenza. Se Cosenza riuscisse ad integrarsi perfettamente, cioè lui, ragazzi, dopo due minuti che entra va a fare l'assist. Beh, insomma, tanta tanta roba, tanto di cappello. Poi arriva il 5-0, pallone di Dunfries ancora per Giacomo. Gran partita di Giacomo, insomma, beh, l'Inter, ragazzi, è andata in scioltezza. Vi leggo la classifica, eccola qua. Allora, al momento Inter prima 58, Napoli 57, Milan 57, ma domani, dopo domani, c'è Napoli-Milan. E allora se divertimo, perché se pareggiano, potremmo trovare... Stavo per morire, potremmo trovarci con Inter 58, Napoli 58, Milan 58. E attenzione, perché se la Juve dovesse vincere... Perché la Juve c'ha 27, ah, perché l'Inter c'ha magari meno. Se io dovesse vincere andrebbe a 53. Attenzione, attenzione, perché qui è tutto aperto. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio. Tantissimi mi piace, buon shalala, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao, raga.